6 aprile, rivolta a PVC, siamo qui in compagnia degli Africa United che si sono riuniti per Babilonia e poesia, tour 2013 che riprende il tour del 1993, un ritorno dal passato al passato da dove è arrivata l'idea, come è nata l'idea di dire ragazzi ci rimettiamo insieme come 20 anni fa e riproponiamo il tour in maniera molto spontanea, in maniera molto spontanea era una cosa di cui stavamo parlando da un po' di tempo particolarmente gli Emax e poi una sera a cena abbiamo definito il periodo, insomma sapevamo che c'era la possibilità di inserire in questa ventina di giorni il blocco del tour in quanto sia i Subsonica sia gli Africa United, chiamiamano 2013, Blue Beaters eccetera eccetera, erano tranquilli e allora abbiamo detto perché no, poi sono bastate veramente 6 telefonate e 5 minuti Ok ma è stato un rincontro dopo 20 anni o comunque siete sempre rimasti legati, vi siete visti nel corso di questi anni oppure magari vi eravate un po' persi? No ci siamo sempre visti, diciamo, pare che alcuni di noi suonano insieme in altre situazioni però anche come Africa non ci siamo mai persi di vista, mai mai mai, ci siamo sempre rimasti molto legati quindi è stato un ritorno bello, 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 siamo proprio felici E chi magari vi ha visto nel 93 e viene a rivedervi oggi, rivedrà una scaletta simile, cosa proponete come live? Ho visto che, allora la formazione è la stessa, gli strumenti sono gli stessi e anche la crew bene o male quindi è una grande unione Sì, troverà gli stessi pezzi suonati con 20 anni di esperienza in più Quindi molto più bravi? Sì, direi proprio di sì Ogni tanto siamo attenti a quello che suoniamo una volta guardando i video si vedeva della gente che saltava a destra e a sinistra Saltiamo un po' meno adesso, diciamo, hai meno Però sì, penso che ognuno di noi in 20 anni ha approfondito il suo rapporto con la musica, con tutto quanto Ed è pazzesco, dopo 20 anni certi pezzi hanno, pur rispettando gli arrangiamenti originali, fedeli però hanno avuto una nuova vita, sicuramente una nuova vita E qualcosa di divertente che vi è successo nel lontano 93, non so, l'hotel peggiore in quest'estate perché anche lì avete fatto un tour lunghissimo nel 93, sia in Italia che all'estero tra il 93 e il 94 C'erano gli hotel, che domanda? Di solito si andava a casa dei tipi a dormire o cose del genere però io sono scarso di memoria storica Mi mette sempre un po' in imbarazzo pensare a... anche perché non ricordo sinceramente però non sono molto da aneddoti, mi piace più parlare del presente, magari anche del futuro Del futuro Del futuro E penso che questo giro, come si è presentato in questi primi giorni perché questa poi di fatto è la quarta data e ci ha dato veramente delle grandi soddisfazioni Ho visto grandi foto anche ieri sera a Milano Grande coinvolgimento del pubblico C'è stato molto pubblico e più che altro penso che veda uno spettacolo bello ma non è tanto lo spettacolo, non è la musica Siamo noi che siamo belli da vedere Siete voi, siete ancora energici, siete belli Posso dire una cosa? Se all'epoca, vent'anni fa, eravamo dei giovinastri insopportabili ora siamo dei vecchi insopportabili e questo è il vero spettacolo della faccenda Però devo dire che abbiamo alzato il nostro livello di tolleranza reciproca Ah sì? Tra di voi, rispetto a vent'anni fa Anche se in effetti è un po' prematuro Sì, sono le prime quattro date È un tour lungo che vi vedo anche all'estero per cui non si sa mai Curiosità? Sempre un attimo pensando soprattutto anche alla tua figura all'interno degli Africa Unite penso alla vostra commissione penso al gioco penso a controlli in cui avevate già messo la dabba all'interno del reggae e a cose tipo, faccio un esempio Dame e Marley con Skrillex come vedete questa parte del reggae che ha preso così l'elettronica in quel modo? A me ovviamente piace molto questa cosa di Africa Unite Io penso che abbiano sempre un po' seguito e ci rilasciamo proprio direttamente anche al discorso di Babilonia in poesia Babilonia in poesia e tutto quel periodo lì era un periodo di forte influenze crossover dove forse gli Africa Unite anzi io penso erano meno reggae di quello che poi sono diventati in alcuni periodi perché c'era proprio un'attitudine molto forte nel mischiare le varie tendenze, i vari stili, i vari sound per quanto riguarda al salto invece di nuovi giorni nostri io penso che gli Africa Unite abbiano già esplorato ampiamente proprio con controlli come dicevi questo tipo di sonorità e forse le ripresenteranno in altri momenti però non lo so perché stiamo facendo dei pezzi per un nuovo disco ma sono ancora in fase molto... Ci sono i due che ricordiamo sono scaricabili gratuitamente da SoundCloud sono i due che abbiamo fatto un po' mirati magari ricordando, infatti uno in inglese esatto l'altro in italiano c'era un po' di connessione con quello che stiamo facendo per il resto vedremo quanta influenza, quanta elettronica useremo nelle prossime cose sinceramente non te lo so dire in questo momento no? ok e invece avete pensato magari di fare un terzo lavoro che esca per quanto riguarda un live da far uscire fisico? visto la reunion per Babilonia, poesia stiamo riprendendo e registrando tutto sia audio sia video poi vedremo che cosa viene fuori ok qual'è? Grazie per la visione!